Ciao ragazzi, sono Brillo37 e benvenuti in questa nuova puntata di Meet the MILF. Oggi parleremo di Jennifer Pulis, anche conosciuta come la mamma di Stifler. Attrice e doppiatrice, fu lei che sdoganò il termine MILF in Italia, ovvero la madre che io mi farei, ma in questo caso è la madre di tutti si farebbero, perché chiunque l'abbia vista nel piccolo e nel grande schermo, per esempio American Pie, nessuno può negare che un pensierino ce lo farebbe. E infatti ognuno di noi quando la vede non può che pensare con la bava alla bocca MILF, MILF, MILF. Magari non con queste interpretazioni, ma più con l'interpretazione che hanno fatto John e Justin vedendo nella vasca da bagno in American Pie il matrimonio, dalla quale vasca da bagno, poi emergerà Finch, che è riuscito a portarsi al lento in tutti gli episodi della saga di American Pie, fino al matrimonio e persino alla più recente reunione. Anche se nel finale del secondo episodio lei rivela a Finch il suo vero nome, ovvero Janine, lei dice che preferisce essere chiamata mamma di Stifler, e noi sta bene così. Oltre alla saga di American Pie, Jennifer lavorò in molti altri film indipendenti da genere commedia, come per esempio Hot Movie, Epic Movie, e anche in un film di Austin Powers. Oltre anche al cinema, diciamo, al grande schermo, lei si occupò anche di piccole comparse nel piccolo schermo, tra cui una comparsa in Sex and the City, una comparsa in una vita secondo Jim, e anche in Friends. Bene ragazzi, questo episodio di Meet the MILF finisce qui, breve, stupido, ma è quasi come lo volevo. Chiedo scusa per eventuali errori di coniugazione di verbi, ma sono sviato da poco, e quindi è un po' problematico coniugare verbi a prima mattina. Quindi vi saluto, se il video vi è piaciuto, ma non ne dubito fortemente, lasciate un mi piace e un saluto a Rob Forchetta, che ha ispirato nella mia mente malata questa idea. Ciao Rob!